Nel verdetto emesso dal giudice per le udenze preliminare distrettuale di Reggio Calabria in relazione al filone abbreviato del maxiprocesso New Generation Riscatto 2, emerge chiaramente l'esistenza e l'attività di un'associazione dedicata al traffico di sostanze stupefacenti. Quest'organizzazione, svelata nell'ambito dell'operazione New Generation Riscatto 2, è stata identificata come la Cosca Cordì, operante prevalentemente nel territorio di Locri. Tra gli aspetti rilevanti messi in evidenza durante il processo spiccano i soprannomi adottati dagli affiliati dell'associazione. In alcuni casi questi nomi facevano riferimenti a serie televisive incentrate su attività criminali, come il soprannome di Cardillo, tratto dalla celebre serie tv Gomorra. La stessa fiction viene richiamata in una conversazione tra membri dell'organizzazione, in cui l'individuo afferma con fierezza di essere un uomo di Gomorra. Un altro legato a indagato e minorenne all'interno del gruppo è Danielino. Questo nome è ispirato a un personaggio della stessa serie televisiva. Un giovane meccanico affascinato dal mondo oscuro della Camorra, che diventa corriere di droga in cambio di denaro e merci di valore. Ancora un altro alias utilizzato dai membri dell'organizzazione, il libano o libanese, ispirato, o più verosimilmente, alla trasplosione cinematografico-televisiva a romanzo criminale. Quest'ultimo invece si concentra sulle vicissitudini della banda della Magliana, evidenziando ulteriori connessioni tra le giovane leve della cosca Cordì di Locri e ambienti criminali noti. Questi dettagli sottolineano come la cosca Cordì abbia radici profonde nel territorio di Locri, evidenziando le connessioni tra le attività criminali e le rappresentazioni mediatiche della criminalità organizzata.